Ma sì, eh? Questa è la Walter Ragioneria Sì, grazie, grazie Venga, permette che l'accompagniamo a sedere? Sì, anche questa parte L'accompagniamo a sedere Lasciatemi in bacio, lasciatemi in bacio Ci metto da me Ci metto da me Ci metto da me Sì, senti, senti, piano Di letto Allora oggi Prima di interrogarti Voglio spiegarti ancora una volta Le conseguenze della pace di Vienna Liscio, liscio Sì, liscio Dopo la caduta di Napoleone Il carico, il carico Il carico? Ma quale carico? Adesso me lo do io il carico L'escavile Oddio, gli occhiari Per fortuna che non ci sono rocchi Sì, no, quando ci vedevo più Chi è stato? Chi è stato questo delinquente Ma scalzone? Io mi faccio sospendere a tutti quanti Professore, sono stato io Io chi? Io, Bolzoni Allora, vuol dire che domani Domani viene accompagnato da tuo padre D'accordo Allora, mettetemi subito a posto la cattedra Se no, io lezione Non ne faccio Interrogò Ecco, professore, la cattedra è a posto Ma non credere che io mi sia dimenticato E domani, ricordati, tieni accompagnato da tuo pace Con questa scuola di oggi non si capisce più un guest Adesso poi ultimamente è molto preso Preso da che? Beh, preso dagli affari internazionali che ha Ma che scherzi, quello è in gasinetto Adesso c'è un affare per le mani in Inghilterra Penso che sta imparando pure l'inglese Inglesi? Sì In Puglia? Eh sì, se puoi va a Londra, imparare pugliesi È carina questa Sì, sta imparando l'inglese Da una bella ragazza professoressa di lingue Molto bella, giovane e breva, professoressa Ah, bella, brava e poi giovane? Sì E chi è? E chi è? I don't know Dunque, io ti posso dire solamente nome, cognome e indirizzo E quanti anni ha? Vuoi sapere? Guardi che me l'hai chiesto tu, eh? Dunque, si chiama Monica Sebastiani C'ha 26 anni e sta all'albergo Semerero Dove dà lezione di lingue al comandatore, in camera Lezione di lingue? Era bergo Ebbè, viene meglio, sai E lo accompagni tu? Io? Ma che scherzi? Io ingolletto la moglie Incoletto? Io devo stare ingolletto alla moglie Ma l'ha detto lui Stai ingolletto a mia moglie e non la mollere mai Che poi non lo so se lo fa per tenere lontana a me O per tenere lontana alla moglie Ma tu che ne pensi? Ma non pensavo Sì, sì Questa che è? La quarta ragione via Sì, sì Sì, seduti Chi manca? Che vuol dire pochi? Voglio i nomi Bolzoni Permesso? Buongiorno professore, sono io, Bolzoni Mi ha accompagnato mio padre Papà? Vieni, vieni Avanti, avanti Buongiorno professore Oh, signor Bolzoni Mi piacere di conoscerla E bravo Bolzoni Non sapevo che tuo padre fosse un pezzo d'uomo alto così Eh, si fa quel che si può Ma mi parli di questo delinquente di mio figlio Ben delinquente, è un ben dottore vero Sono giovani, si sa Tutti in gioventù siamo stati ragazzi E lei mi capisce Magari oggi questi ragazzi esagerano un po' E se non gli si mette un freno Rischiano di fare una brutta fine Questo sì, questo sì Come gli occhi? Ah, gli occhi Come gli occhi? No, no, niente Questo periodo mi si è abbassata molto la vista E a chi lo dice Piuttosto, signor Bolzoni Cerchi di seguirlo anche lei un po' più da vicino Sarà mio dovere Non voglio farle perdere l'altro tempo prezioso Arrivederci Molto piacere di averla conoscerla Molto lieto Molto lieto Molto lieto Molto lieto Vai, vai Vai a posto Su, vai Poi noi parliamo a casa Vai Oddio, che disgrazia Si è rotto in due Strano, la signorina Monica Oggi non si è presentata alle prove Forse avrà delle...